Il rifiuto di adempiere al re Le costruzioni del personale aria potrà comportare l'arresto Ah, cazzo! Sì, va bene Eh? Oh, piano! Sì Ah, sì Oh, cazzo, paurato! Oh, cazzo! 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 Non credo che il rimpiazzo si trovi qui Ispeziona la zona e cerca di scoprire dove si trova Così Oh, cazzo! Oh, cazzo! Non può sfuggirci. Dobbiamo cercare ovunque. Drone, per l'ustrazione. 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 Eccoti i dati. Ricevuto. Analizzerò i registri dell'azienda mentre tu ti metti in salvo. Drone, per l'ustrazione. È un'IA ed è anche piuttosto scadente. Nulla di lontanamente paragonabile a me. Potrebbe sostituire qualche milione di umani al massimo. Porca troia. Oh, giusto. Dalla tua prospettiva immagino siano molti. Se l'idea ti aggrada, possiamo andare a distruggerla prima che altri perdano il lavoro. L'idea mi piace. Inviami le coordinate. L'idea mi piace. L'idea mi piace. L'idea mi piace. L'idea mi piace. Sì, senti, davvero, sono proprio preso. Setacciamo l'area. Drone, cerca. Sospetto nella vostra area. Potenzialmente armato e ostile. Centrale, chiamata ricevuta. Sospetto ha superato il posto di blocco. Sospetto. Sospetto. Mi preparo a intercettare il veicolo. Ora facciamo sul serio. Passo, non lasciate che scappi. Sopetto è armato. Sospetto ha un'arma da qui. Sospetto. Sospetto. Oddio, 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 oddio. Ma, che sta succedendo? Si vede tutto ciò. Ma, che sta succedendo? Ma, che sta succedendo? All'inseguimento. Ripeto, siamo all'inseguimento. Centrale, ho perso il bersaglio. Centrale, fuori gli identikit. Il bersaglio è andato. Ma che bellezza! No, ho già i miei cazzi. Io ci rinuncio. Rientriamo. Ma sì! Un dio coordinate di una richiesta di soccorso Attendo rapporto Qui c'è decisamente... Non capisco cosa mi ha fatto scattare l'allarme Ti soffermi stappando Qua? Grazie a tutti Magli, che hai scoperto? Ho dei dati sulle operazioni di Albion, nello specifico una serie di individui che Albion ha preso di mira. Chiederò ai miei contatti di nasconderli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.